Buon giorno, buon giorno, buon giorno Buon giorno, oggi è venerdì 24 aprile e si inizia con un grande e lungo weekend, mamma mamma, e voglio divertirci Buon giorno, oggi abbiamo fatto tardino Ieri abbiamo fatto una cosa, ieri siamo stati veramente operativi, oltre ad essere attivi siamo stati operativi Vi dico che siamo stati vicino alla cattedrale, erano le due di notte, abbiamo visto Giustamente, non si fa spuse, ma ne fiori, i petto di rosa Abbiamo fatto un anno, ora abbiamo fatto di tempo, come noi siamo stati quattro, e i petto di riportare non è un belvedere non è un belvedere secondo il nostro un turista quando vuoi venire non è un belvedere secondo il nostro modesto parere e dai e dai forza forza non c'è un video di chiudere ma capisco che una certa cosa non si può fare il weekend è iniziato io ho parlato di questa quando dovete venire per qualsiasi cosa venite qua e ci dite la vostra poi c'è qua il mitico e il grande eraclio qui c'è un belvedere vedete che bello qua vedete che bello qua domani la liberazione i bambini dell'italia vedete che facciamo l'altembre ci stavamo però io ho questa osservazione dicevo però è un'osservazione che facevo quando stavamo quando stavamo parlare non c'è stavano i bambini italiani tutti da spingere ma ci vanno bene e va bene e come dicevo chi maneggia festeggia è un belvedere e è un belvedere il barletto è un belvedere è un belvedere è un belvedere io vi auguro un buon weekend divertito divertito che ora inizia un lungo weekend c'è un tipo divertito a Davide pur che ma se faccia ma noi ti sembra cosa buona da barletta a Vesta le Lurus ciao